Economia, infrastrutture e politica. Luciano D'Alfonso traccia un quadro del futuro della regione e mette al centro di un'agenda possibile qualche scadenza. Intanto c'è quella di dicembre che riguarda l'aeroporto d'Abruzzo. Lo scalo di Pescara, anche se è stato inserito nella rete centrale insieme a quelli di Perugia e Ancona, nei fatti, non è stato designato come strategico e il piano nazionale relativo dovrebbe essere approvato dal ministro Salvini come da risposta a un'interrogazione parlamentare giusto entro quella data. È come se noi tornassimo al foglio rosa e invece Ancona va oltre la patente B e prende le patenti di specializzazione. Vedete, noi abbiamo purtroppo in procedura la perdita contrattuale di 11 collegamenti aerei da Pescara verso le destinazioni dell'Europa. Abbiamo questo grande problema riguardante il decreto nazionale sui voli low cost. Noi dobbiamo assolutamente recuperare una capacità di protagonismo dell'Abruzzo e dell'aeroporto dialogando con il ministro Salvini che non può essere il problema del governo regionale. È curioso che lo debba dire io. Tocca pensare ad una strategia nuova che sia in grado di dare uno sguardo ad ensemble. Le infrastrutture rappresentano una causa che non si può discutere all'interno delle beghe della piccola politica. La visione deve essere più ampia. Bisogna avere l'ambizione giusta. Prendere come riferimento un interlocutore, in questo caso il ministro dei Trasporti. Consiglierei a chi governa oggi la regione di attivare un rapporto di correttezza col ministro delle infrastrutture, col partito del ministro, in maniera tale che la candidatura di Pescara possa essere riaperta e sostenuta. Modificare il decreto sui voli low cost come facciamo noi nel 2016, risolvendo il problema degli oneri fiscali sui titoli di viaggio. Allo stesso modo, bisogna osservare le infrastrutture e il destino dell'aeroporto va contestualizzato in una rete in grado di soddisfare le economie dello sviluppo. Insomma, tocca pensare al turismo ma anche a ferrovie, strade e autostrade. L'aeroporto d'Abruzzo deve anche ragionare per ingrandirsi, facendo convenzione di utilizzo anche con gli spazi dell'aeroporto militare. Intanto resta ancora vacante, dopo 415 giorni, il posto da dirigente generale della SAG e continua la cancellazione dei voli dopo Milano-Linate, sarà la volta di Torino a partire dal prossimo 5 novembre. Questa litigiosità all'interno del Consiglio d'Amministrazione, che addirittura trasferisce i poteri del Presidente al Vicepresidente, non si è mai visto.